3 marzo 2023 siamo sulla seggiovia orcellera e in questo terzo video andremo a fare la pista numero 2 orcellera rossa riprese con gopro hero 11 in 4k 60 fps hyperview un paio di foto panoramiche qui l'effetto è sempre molto molto bello e quindi non ce lo perdiamo andiamo a goderci il panorama che qui è sempre spettacolare andiamo quindi a fare la pista numero 2 o scendere la pista rossa un po' di old style e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su instagram dove trovate foto e reel e perché no anche su twitter vi ricordo che nelle descrizioni sotto il video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo non pliappole di 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 questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati guarda altri video ce ne sono di vari generi i video di questa giornata continuano ciao alla prossima